bella raga bentornati allora abbiamo preso la medaglia palude e sono riuscito a prendere anche dratini alla macchina alle macchinette l'ho fatto già evolvere e adesso andiamo avanti ok vediamo se riesco a catturarlo eh eh e Grazie a tutti. 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 Allora qui bisogna trovare i denti d'oro se non mi sbaglio. E ci dovrebbero dare... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Abbiamo preso sia denti d'oro che... Anche surf... Quindi... Ancora andiamo dal guardiano e prendiamo anche forza. Allora... Ok... 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 Allora... Allora...